servono tantissimo io se facessi un governo io lo vorrei di soli poeti basta quindi vorrei che i poeti si occupassero delle nostre cose perché sono quelli che veramente hanno capito tutto della vita hanno sentito tutto quindi io sono amo la poesia perché mi ha dato tanto e continuo a darmi tanto proprio come persona quindi io se proprio dovessi affidare per dire anche un evento così luttuoso come quello che è successo adesso questo terremoto io lo affiderei a un poeta e io e lui troverebbe sicuramente la strada giusta per fare bene